Se dal punto di vista politico sembra esserci qualche grana, l'aspetto amministrativo inizia a concretizzarsi e la nuova Pescara torna visibile all'orizzonte. Nella sala giunta del comune di Pescara è stato celebrato un momento importante che di fatto dà avvio al processo di unificazione del capoluogo con Monte Silvano e Spoltore. Le tre città dovrebbero diventare un unico grande centro metropolitano dal 1 gennaio 2027. Nel frattempo tra tre mesi inizieranno a funzionare in sincrono cinque servizi. Il vice sindaco di Pescara del Chi sul Pizio, il sindaco di Monte Silvano Ottavio De Martinis e la prima cittadina di Spoltore Chiara Trulli hanno firmato l'atto che accorpa dal 1 gennaio 2024 l'ufficio di statistica, la centrale unica di committenza, il servizio di progettazione per l'accesso ai finanziamenti europei, la protezione civile e lo sportello unico telematico del SUAP. L'accordo sottoscritto entrerà in vigore dal nuovo anno e rappresenta un traguardo importante per la sindaca Trulli. Con la stessa diplomazia e la massima serenità ci aspettiamo che si arrivi a condividere la bozza di statuto della nuova Pescara. Ha dichiarato stesso augurio di De Martinis che ha sottolineato come non ci sia stato un ragionamento in base al campanile. Il vice sindaco di Pescara sul Pizio ha definito questa data una giornata storica.